Balcone sul mare. L'appartamento recentemente ristrutturato può ospitare una coppia in una comoda camera matrimoniale climatizzata e arredata con cura in cui è possibile aggiungere un terzo letto singolo. L'appartamento sorge in centro storico, zona traffico limitato che non è possibile raggiungere in auto. L'appartamento sorge in centro storico, zona traffico limitato che non è possibile raggiungere in auto.